Tutto pronto, si aprono le gabbie, partite cavalli della seconda. Musa d'Oriente esce bene dalle gabbie e si porta al comando lungo lo steccato, avvicinata subito da Frankel Bitt che poi cerca di adeguarsi, infatti cerca la stessa schiena di Musa d'Oriente. In terza c'è Lady Ramon, avversaria dichiarata di Musa d'Oriente che cerca di tarlonarla proprio da vicino, in quarta posizione troviamo Secret Sharp, poi ancora Tata Pila, Happy Moment, Ballot Box e a chiudere il gruppo troviamo Nanterre. Cavalli che stanno procedendo con un'andatura tutt'altro che svelta, Musa d'Oriente che sta gestendo il parziale nei confronti di Frankel Bitt che si è posizionata a tre quarti della favorita. In terza con la giuba blu troviamo Lady Ramon in quarta, Secret Sharp a precedere un terzetto formato dall'interno verso l'esterno da Ballot Box, Tata Pila, Happy Moment e a chiudere il gruppo ancora Nanterre. Tre quarti della piegata senza che nulla sia cambiato, adesso Musa d'Oriente lancerà la lunga volata, Frankel Bitt che si fa subito minacciosa sui fianchi, Lady Ramon che temporeggia lungo lo steccato ma prendendo gli scarichi della stessa favorita. Secret Sharp che comincia la sua progressione dall'esterno, ci prova Tata Pila, Ballot Box che deve cercare anche il barco, Happy Moment e Nanterre che per il momento non ne hanno. Seca Valle virtualmente e potenzialmente in grado di lottare per la vittoria con Frankel Bitt che è passata in vantaggio, Musa d'Oriente che non ne ha e ha un vistoso calo, Lady Ramon che va all'inseguimento di Frankel Bitt, Lady Ramon che va all'inseguimento di Frankel Bitt che è ancora in quota ma Lady Ramon, la giustizia, fil di palo. Doppietta per Fabio Branca, in sella a Lady Ramon che è andata in accelerazione superando di slancio Frankel Bitt che ci aveva provato fino in fondo. 4 al primo posto, il training è quello di Luigi Di Dio, i colori quelli di Nazareno Marchetti, la quota al tot era di 7,47. A secondo il 2, Frankel Bitt al terzo 8, Tata Pila per un ordine d'arrivo che vede 4, 2, 8. L'ordine d'arrivo che ovviamente deve essere ufficializzato, delusione ancora per una favorita, in particolare Musa d'Oriente calata. A palo lontano è tutto per la seconda.